Arti marziali, judo, una disciplina che cresce ad Alcamo e che insomma ad Alcamo si chiama Cristina Cianti, hai fatto un po' la storia di questa disciplina nel nostro territorio, adesso la tua società Omnia Sporting che continua a riscuotere successi, adesso anche un secondo posto in un campionato europeo. Sì siamo arrivati secondi a questa tappa europea in Slovenia e ha fatto sì che Cristiano si ricredesse un attimo e quindi riuscisse anche lui a comprendere che con il lavoro si riesce ad arrivare dove uno vuole arrivare e mi auguro che questo sia un trampolino di lancio per Cristiano. È un campionato europeo a tappe che serve a creare una classifica a livello europeo, un ranking? Sì serve a creare un ranking e ti permette poi nei grandi incontri quindi europei e mondiali di riuscire a mettersi in ranking da non doversi trovare poi con i più forti, i più forti poi vengono divisi durante la gara di una grossa finale che potrebbero essere mondiali ed europei. Parliamo di categoria cadetti quindi nati? Praticamente nati dal 2000 al 2002 e per l'anno per il 2017, poi nel 2018 logicamente il 2000 e scedri rimangono 2001-2002 ed introducono il 2003. Cristiano quindi una grande esperienza e sei stato sempre tra i primi in Italia, adesso insomma un secondo posto a livello europeo, cosa ti ha lasciato dentro come emozioni e come determinazione? Allora non era la prima gara che facevo a livello europeo, bensì la quarta, giustamente l'adrenalina in una gara c'è sempre però arrivare al secondo posto è stato bellissimo. Primo perché non me l'aspettavo e secondo perché giustamente mi sono ricreduto di me e quindi è stato bellissimo. Per quanto riguarda questa disciplina, tu hai ragazzi della tua età o hai più piccolini, cosa ti senti di dire? Io mi sento di dire che giustamente io da 12 anni ormai che faccio judo quindi non abbandonate mai le cose se con un pizzico di impegno alla fine ce la facciamo tutti a conquistarle. Quindi non abbandonate mai e fate sempre il vostro lavoro. E' una disciplina di lotta però anche di grande rispetto dell'avversario e delle regole? E' una disciplina di lotta, di rispetto dell'avversario e anche di, come posso dire, di rispetto verso l'insegnante. Cioè insomma è una disciplina che racchiude molte cose importanti. Il sogno nel cassetto, insomma, e comincia ad avere tu anche una certa età, tra virgolette, diventando senior, cosa speri, cosa immagini di poter fare? Ma intanto quest'anno punto all'età Europa e alla convocazione nazionale. Poi più in là speriamo in un mondiale e magari in un'olimpiade. Grazie. 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 Grazie.